Tiziana Naclerio, con la società operaia di mutuo soccorso di Porto Maurizio, la società Rai Neri, avete organizzato un incontro sull'Alzheimer, l'appuntamento è a Oneglia nel Museo dell'Olivo Carli, giusto? Esatto, proprio questo sabato alle 15.30 alla sala conferenza del Museo dell'Olivo ci sarà questa conferenza gratuita, aperta a tutti, condotta dal professor Massimo Tabaton, che è uno dei dieci migliori neurologi che abbiamo in Europa ed è proprio un esperto nel campo della malattia di Alzheimer. Lo organizziamo come società operaia di mutuo soccorso di Imperia, quella di Via Carducci a Porto Maurizio, e tutta la popolazione, la cittadinanza invitata, è un tema di grande attualità. Il professor Tabaton è un ricercatore scientifico e ha delle interessanti novità da dirci, da raccontarci, e delle speranze che ci sono per il futuro, per le persone che hanno dei familiari o delle malati in casa. Pare che per il 2020 ci sia la possibilità di fare una terapia preventiva, quindi è un tema di larga attualità. In Italia sono 1.200.000 malati di Alzheimer, in tutto il mondo sono 46 milioni, e pare che sia diventata una vera e propria emergenza sanitaria. Purtroppo, chissà un domani chi può toccare, quindi credo che l'argomento sia veramente di interesse generale. Quindi ricordiamo, sarà la conferenza del Museo dell'Olivo a Fratelli Carli a Aoneglia in Via Caressio, sabato a partire? Sabato 28 novembre, dalle 15.30 alle 17, e il professor Tabaton sarà anche a disposizione per eventuali domande che le persone vorranno porle. Grazie.